Applausi con il 2, eccoci con Selene, numero 3 Cristina, il numero 4 è Simona, numero 5 un'altra è Cristina, il numero 6 Rita, con il numero 7 Giulia, con il numero 8 Daphne, con il numero 9 Jasmine, con il 10 la nostra, la vostra attenzione per Marianna. Ora festeggiamo Selene e concludiamo con Martino, l'amico fotografo Carlo che...